ok ciao a tutti bentornati capitolo 3 chissà che bello se fanno quello della 8 sulla play 5 cioè se fanno il remake della... sarebbe bello se fanno sulla play 5 il remake di Final Fantasy 8 prima andiamo a fare le altre adesso fammi riprendere i comandi ok qua è il tipo ma com'è che si faceva i dettagli ok 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 ciao piccola io sa quante volte l'otto me lo son fatto tutto così ci sei vediamo se ha cambiato ecco grande race tanto buona quanto intelligente i don't like studying i thought i actually let you keep it here seriously i'm sorry but it's outside Tifa! Tifa! You won't believe this! A Cerulean Drake will limp from a train graveyard, but these two clowns used to get out their butts and do anything about it! Hey! Is that...? It is you! The new Merc! Then maybe you can help us out! The Drake is in the old talaga factory over there, but to reach it you'll need to get ahold of a watch security key. You should be able to find one inside one of the crates. I forget it, just smash them all! I saw it first! Got it? Come cazzo entro? So scared! Ma... ciao a tutti ragazzi innanzitutto. Fatemi ricaricare la chat perchè secondo me non va. Eh no! Bom. What a . I can't do this! Oh, this one too! Sì, c'è un jackpot Sì, è vero What I'm looking for Is where the train came Recently a rather aggressive Working Working Everyone in the immediate area Should exercise caution Okay, okay Okay allora così quasi faccio lei d'attacco cioè faccio lei maga grazie a tutti no andiamo no aspetta no no aspetta 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 no aspet Cazzo faccio, scusa, salirci, qua è chiuso, qua è chiuso. Ma sono io stupido o non? Ma perchè qua è chiuso, non è sopra. Boh, non vedi che è chiuso. Non c'è nessuno. 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 Ah, quindi devo girarmi tutta la fabbrica e cercare le chiavi. C'è nessuno. Non 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 c'è nessuno. Grazie per la visione! 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 Ciao Francesco! Grazie per la visione! 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 Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì, Sì. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sì ma un giorno qua. Dobbiamo andare, certo? Certo Cosa? Ma... Hai cambiato Cosa Penso che... Sì Voi occhi Voi esserci È il Mako Il soldato, ricordi? Ricordi No, no, finiamo gli incarichi Eh, manca un gatto Cosa 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 Non rassurare Non rassurare Cosa Scusate i tuoi strumenti, prendete il tempo ora! Che pagaio! Come faccio a salire davanti? Scusate i tuoi strumenti! Scusate i tui! Sedan u konnte ilusen u chacere! Thatsіт euch! Idiot! Sii hadr werden able to find more elsux! Stipiti! 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 I've got another job for you, Mark! You're pretty strong! A certain shopkeeper told me you paid him a visit! Thanks for helping him out! Just so happens there's another job I'd like to offer you. Now that I know you can handle yourself in a fight! You've got a real killer on the loose, you see. A rabid catchdog. Maybe you've heard people talking about him. Shimramug gone feral. That sighting was in Scramble Boulevard. Think you're up to it? I'll handle it. You're a lifesaver. That anyone else around here stands a chance. Go get him, bud. How do I know if he's sick? How do I know if he's sick? Oh, I know if he's sick. Grazie a tutti. 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 Yeah. Yeah. Grazie a tutti. 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 Ci ritieni a un paese sospite? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Eh, infatti, è stanco. Il micchia, la batcaverna. Sì, è vero che siamo finiti per la prossima, allora. Per andare a cercare i dettagli con gli altri. Prima di cercare, è stato il mio pieno. Quindi senti e fermi fino a che finiscono. Doppi, Tifa. Scusate, ma dovrebbe prendere molto più lungo. Alla prossima... Prendete un sottotitolo! Cosa cosa è? Non lo so, qualcosa è difficile. Grazie. In which case? Our house special. The Cosmo Canyon. Beautiful. I gotta go. Enjoy. I gotta go. Hey, you see the news? The reactor bombing was the work of the eco-extremist group Avalanche. Public enemy number one. Kits your heart racing, doesn't it? They don't know our faces, so we're in the clear for now. But we'll want to capitalize on this momentum. Speaking of which, you coming on the next one? For the right price. Oh, you can bet I'll be pushing hard for a race. Tifa will be joining us too, but... I don't know. Even a blind man can see her heart's not in it. She was never on board with the bombings, so if it comes down to do or die... If I've gotta put my life in someone else's hands, and then... I'd rather that someone was a professional. Like you. It's still kills sometimes. I'm trying to get sick. I'm trying to get sick. I'm trying to get sick. Grazie a tutti. 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 No? Grazie a tutti. No? 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 No?